Buongiorno tifosi bianconeri! Volete restare aggiornati su tutte le novità? Quindi iscriviti al canale, e attiva la campanella di notifica, quindi non ti perdi niente della Juventus. Nella Juventus Next Gennaio c'è un nome ancora poco conosciuto ma molto talentuoso. Samuele Damiani è in prestito alla Next Generale e il centrocampista appartiene al Palermo, ma sarà sicuramente riscattato in modo definitivo dalla Juventus. Samuele Damiani sta stupendo tutti nella seconda squadra della Juventus, tanto che ci sono voci che lo vogliono promosso alla prima squadra, seguendo le orme dei suoi ex compagni di squadra come Yildiz, Wilson e, recentemente, non Jay Sekulov. Ma prima, la Juventus deve acquistarlo in modo definitivo, e il termine per farlo sarà a giugno, quando il prestito giungerà al termine. Avevi mai sentito parlare di Samuele Damiani? Non esitare a commentare qui sotto. Alla prossima video!